La Toscana sta già pensando al ritorno a scuola. La prima campanella suonerà il 15 settembre. Il vaccino è considerato come la via maestra per tornare in classe in sicurezza, ma i pediatri sono preoccupati. Lo è in particolare Valdo Fiori, segretario regionale della Federazione Medici Pediatri, secondo il quale siamo già in ritardo. Avremo dovuto cominciare la campagna vaccinale prima della fine dell'anno scolastico 2020-2021. Nessuna preoccupazione invece per il presidente della regione Eugenio Gianni, secondo il quale in campo ci sono i centri vaccinali in grado di tenere il ritmo di 30.000 vaccinazioni al giorno. Il 9 agosto è una data troppo in là per l'inizio della campagna vaccinale, dice al Tirreno il presidente dei pediatri. Per avere una copertura sicura sarebbe dovuta cominciare prima della fine dello scorso anno scolastico. Vanno messe in conto le ferie delle famiglie, dei ragazzi e anche di noi pediatri. La nostra è infatti una libera professione. Ogni pediatra decide di fare le vacanze in maniera autonoma. Non è detto che ad agosto tenga aperto l'ambulatorio. La scuola riaprirà tra meno di 60 giorni e abbiamo bisogno di indicazioni certe, dice l'assessore all'istruzione della regione toscana Alessandra Nardini. Non possiamo improvvisare tutto all'ultimo momento. Chiediamo quindi al governo di fare di più per evitare la DAD a scongiurare le classi pollaio e dotare gli istituti degli insegnanti necessari. La scuola deve essere in presenza, dice ancora, per tutti, anche per le superiori. Ed è così che vorremmo ripartire a settembre. Per questo, come regioni, abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro dell'istruzione Bianchi, affinché si faccia davvero uno sforzo in più per riportare tutti sui banchi. Ovviamente in sicurezza, con un occhio sempre attento alla situazione epidemiologica. Non possiamo permetterci un altro anno come i due appena trascorsi. Le conseguenze sui nostri studenti sarebbero pesantissime ed i risultati dei dati invalsi ce lo dicono chiaramente. In Toscana, conclude l'assessore, a gennaio siamo stati tra i primi a riaprire in presenza e la nostra intenzione è procedere su questa linea.